no guarda arrivo adesso riprendendo un secondo avviciniamoci no continua continua sto riprendendo che miseria nel buio un ambiente quasi da grotta allora siamo fermi su un saltino che dà su pozza e continua poi nel buio come vedete sopra la volta si salda schiude il dubbio assolutamente lecito è ma inghiotte o prosegue esterno per evitare spiacevoli sorprese lasceremo armato il saltino e proseguiremo a nuoto oltre questo laghetto per vedere come continua in ogni caso come chiude c'è un finestrone lì e qui chiuso 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 monteremo anche le frontali no non mi guarda che riuscire a avere un laghetto ambiente di grotta assolutamente sì non mi guarda che Grazie a tutti. Grazie a tutti.